Mercoledì 19 giugno 2019, oramai ci siamo, è piena estate finalmente o anche magari per sfortuna, giornate veramente calde e diciamo che il calore in un modo o nell'altro è arrivato anche in casa Apple perché bisogna per forza parlare di una ennesima diciamo presa di coscienza che in Apple c'è soprattutto dopo l'ultimo WWDC 2019 perché tra le altre cose è successa una cosa abbastanza decente secondo me ovvero la nuova Apple che avanza una Apple che butta fuori un prodotto che era tantissimo atteso perché sono più di 2000 giorni che la gente non può fisicamente mettere le mani su un'ennesima generazione di questo prodotto e quando appunto è arrivato il Mac Pro il 3 di giugno diciamo che ho iniziato a subodorare un pochino una certa chiamiamola una certa leccornia legata a queste tre lettere perché? Perché oramai il discorso legato ai prodotti Pro, questa puntata ce l'avevo in mente da almeno 15 giorni, ve l'avevo anche detto forse in altre puntate ma poi settimana scorsa c'è stato anche un tweet del buon Marques Brownlee, diciamo che bisogna dar significato a queste tre parole per cui oggi cerchiamo di far che cosa? Di dare alla lettera P, alla lettera R e alla lettera O un loro significato E quindi Mac Pro e quindi diciamo la vera star per alcuni versi di questa WDC 2019 una WWDC che sta facendo ancora parlare di sé, l'altro ieri è uscita la seconda beta dei vari sistemi operativi che poi verranno ufficializzati e verranno disponibili per il mondo, anche per noi comuni mortali nel mese di settembre per cui fa piacere che in ogni caso anche il lato software va avanti ma c'è anche l'hardware perché ovviamente iOS dovremmo farlo girare pur da qualche parte e sto macOS deve arrivare sui vari computer di Apple e i computer di Apple oggi quanti sono, perché sono determinati forse a lasciare un segno anche una certa demarcazione perché mi verrebbe quasi da dire che oramai il mondo del mercato dei computer di Apple è segnato da due fazioni la fazione normale e la fazione non so come definirla perché la parola Pro non vorrei usarla perché poi in qualche modo verrebbe meno l'argomento base della puntata perché se per esempio pensiamo ai tre componenti Pro di questa linea quindi l'iMac Pro, il Mac Pro e ovviamente il MacBook Pro hanno relativamente diciamo dei fratelli minori per cui ovviamente l'iMac Pro ha l'iMac normale poi c'è un Mac Pro che forse come fratello minore potrebbe avere un Mac Mini e poi c'è il MacBook Pro che diciamo ha due fratelli perché ovviamente da una parte abbiamo quello che è il MacBook, il dodicino come lo chiamo io che è forse un computer destinato a morire con la reintroduzione del MacBook Air e poi appunto il fantomatico computer che undici anni fa Steve Jobs tirò fuori dalla busta e che dall'anno scorso è nato a nuova linfa e poi ovviamente tutto questo è nuovamente messo in discussione ne abbiamo anche accennato per quanto riguarda l'hardware una settimana fa ma per quanto riguarda il software una settimana fa invece in questa puntata cercheremo di tirare fuori qualcosa dal tuo hardware anche nel mondo mobile perché? Perché oramai da quattro anni oramai gli iPad Pro fanno un loro mondo a parte mi verrebbe da dire perché in ogni caso sono sempre stati dei precursori in base a delle caratteristiche che forse oramai non sono più così caratteristiche l'unico mercato che mi verrebbe quasi da dire essere esente da tutto questo è il mondo di iPhone però anche lì oramai abbiamo una demarcazione abbastanza concreta tra il modello S e il modello R quello che è il modello top di gamma e il modello tra virgolette medio gamma o meno top di gamma mi verrebbe da dire però la cosa che mi ha impressionato appunto è il concetto di Pro perché? Perché ad esempio il nuovo Mac Pro tanto per iniziare con il principe secondo me di questa WWDC 2019 è stato ovviamente il Mac Pro perché in ogni caso dopo sei anni Apple in qualche modo si muove e punta forse a un usato sicuro perché? Perché ovviamente il case è ispirato al modello precestino quindi il modello del 2012 e diciamo porta forse a compimento quella promessa che l'azienda aveva fatto ai suoi utenti ovvero vi porteremo un computer modulare un computer che ognuno potrà in qualche modo realizzare ma soprattutto ottimizzare nel tempo sia a livello proprio di prestazioni eccetera eccetera che ovviamente a livello poi di componenti interne modificabili nel tempo e quindi abbiamo questa serie di prodotti che in qualche modo si vanno incastrare perché abbiamo appunto la RAM espandibile fino a un terabyte e mezzo abbiamo la possibilità di avere appunto l'archiviazione che può arrivare fino a 4 tera abbiamo la possibilità di mettere fino a due schede grafiche e quindi gestire credo tre streaming 8k contemporaneamente e quindi diciamo che hanno buttato fuori la bomba una bomba che mi ha fatto subito pensare al primo concetto di pro ovvero la macchina per i professionisti perché questa è una macchina per determinate persone per determinate categorie che hanno bisogno di potenza e quindi per quella determinata fascia di persone ovviamente il computer principe è questo Mac Pro è un prodotto eccezionale è un prodotto che effettivamente arriva al cuore di una certa fetta di mercato una fetta di mercato fatta sicuramente di persone che lavorano in un determinato mondo e che forse queste persone si vanno a distaccare nettamente dall'utenza di massa perché ovviamente il professionista che si occupa di fotografia a livello professionale ma non a livello magari di produzioni massive per esempio Mick che è in chat così come Andrea che saluto effettivamente potranno magari trarre beneficio da altre determinate fasce di computer che effettivamente non sono questi pro per cui questa è veramente la macchina tra virgolette che in qualche modo sbarella tutta la concorrenza cioè proprio stacca il morso stacca veramente il morso dell'utenza professionista e inizia a mangiare un determinato mercato al mondo Windows un mercato che come abbiamo sempre detto anche qui nel podcast è sempre stato un mercato Apple che poi ha sempre dovuto guardare verso altri orizzonti però le cose in qualche modo vanno poi rimesse in discussione perché? perché se ad esempio abbiamo questa macchina ovviamente accompagnata a un display che è un 32 pollici che addirittura non è un display HDR quindi che copre un high dynamic range ma addirittura un XDR che quindi abbiamo in qualche modo una gamma extreme dynamic range abbiamo un contrasto di un milione a uno che è praticamente lo stesso contrasto dei display OLED di Apple abbiamo la possibilità di avere una luminosità media di 1000 nits e poi sappiamo benissimo tutte le polemiche che sono venute fuori perché poi Apple ha dichiarato che comunque il monitor costa tra le 5000 e i 6000 dollari con un ulteriore stand a parte che costa altri 1000 dollari e invece i 200 dollari queste sono tra virgolette spese e soprattutto scelti di mercato da parte di Apple però in ogni caso c'è da prendere in considerazione appunto una certa fascia di mercato che è appunto una fascia professional e quindi il resto poi che alla fine io voglio spalmarlo su tre quarti d'ora di di puntate invece poi Michele lo riassume in tre righe di commento il resto è prosumer è proprio questa alla fine poi quindi la frase centrale che va a essere in un modo o nell'altro anche alla base di quello che per alcuni versi potremmo definire il nuovo pensiero di Apple perché? perché come vi dicevo poi nella puntata del pre-evento nella quale poi abbiamo gestito in un modo diverso anche il lancio di questo prodotto perché vi ho parlato di come io speravo che questo monitor ad esempio fosse l'inizio di un percorso che in realtà poi non è stato così e quindi abbiamo la possibilità di capire cosa Apple voglia fare con altre fasce di prodotto perché perché oramai Apple in qualche modo è sempre più scesa a compromessi perché se la Apple che forse abbiamo conosciuto noi tutti che seguiamo l'azienda da diversi tempi forse in questo caso e non vorrei dirlo ma la Apple di Steve Jobs era un'azienda totalmente proiettata alla massimizzazione mi verrebbe da dire delle capacità dei singoli prodotti per cui praticamente il la volpe che vuole arrivare e l'uva che effettivamente che è il top è il prodotto Apple e invece poi quello che è giustamente secondo me un percorso diverso che è poi la scelta che ha fatto Tim Cook con tra virgolette una democratizzazione di tantissime fasce e tantissimi prodotti uno su tutti il MacBook Pro perché perché la cosa abbastanza interessante appunto è vedere come questo suffisso poi si va a spalmare su tre fasce di prodotti diversi perché perché la prima fascia è quella ovviamente di un prodotto relativamente chiamiamolo simile perché ovviamente abbiamo poi la dicotomia che c'è tra l'iMac e l'iMac Pro perché comunque se l'azienda ha portato avanti il discorso del dell'iMac Pro diciamo che alla fine ma forse anche all'inizio era semplicemente il contentino perché perché comunque abbiamo il miglior Mac Pro quindi il miglior iMac quindi l'iMac che poi nei vari anni è uscito quindi con un display 5k con determinate fasce poi superiori di RAM di schiera video di anche magari di periferiche perché c'è poi anche tutto un sistema di porte totalmente diverse Apple con quel prodotto forse ha voluto mettere in competizione i vari i vari professionisti perché comunque appunto come dicevamo prima quando una certa Apple portava a sé determinate fasce di persone ovviamente le portava nel suo mondo quindi un mondo fatto di macOS fatto di certi strumenti uno su tutti per esempio mi verrebbe da dire Aperture per quanto riguarda le foto poi ovviamente per quanto riguarda il montaggio video c'è sempre il buon vecchio caro Final Cut che iniziano hanno iniziato nel tempo ad ingabbiare le varie persone persone che quindi come per esempio posso essere anch'io che dopo nove anni di Apple tendo con diffidenza a vedere verso altri mercati hanno forse continuato a ingoiare veramente rospi per continuare a stare in un determinato mondo perché perché se forse la differenza sostanziale è a parte il colore perché il iMac Pro Space Grey che addirittura può arrivare a costare credo 18.000 euro contro credo i 50.000 dollari e più c'erano delle divergenze proprio in termini di proprio in termini di di vedute tra i vari mercati tra i vari siti quindi tra mi sembra Mac Rumor 6.000 ma è comunque un computer molto costoso che forse non soddisfa appieno determinate facili persone ma comunque ne soddisfa altre e quindi con due prodotti perché da una parte abbiamo l'all-in-one di Apple il computer che abbiamo sempre conosciuto con determinati limiti con tanti pregi perché abbiamo per esempio un monitor che è un 5k mi verrebbe da dire formidabile d'altra parte invece abbiamo la macchina modulare abbiamo una macchina relativamente grande perché comunque c'è la possibilità poi di provare a vedere come sta fisicamente sui nostri tavoli nei nostri uffici basta appunto mettersi lì con l'applicazione con il sito Apple e c'è la realtà aumentata ed è comunque una macchina abbastanza ingombrante con questo display che la cosa incredibile dice Mick è che avendo la retroilluminazione per singolo led quindi mi verrebbe da dire che è un mix o meglio la filosofia questo è uno schermo comunque LCD però la filosofia che c'è dietro è simil oled quindi abbiamo la possibilità di illuminare i vari pixel singolarmente per cui per esempio ci sarebbe anzi c'è la possibilità di avere i 1000 nits nella porzione dei video mentre l'interfaccia resta a 500 nits per cui in ogni caso proprio una maggiore efficienza e Apple per esempio dicevano che stanno collaborando anche con chiamiamola l'azienda forse più appoliana del caso quindi Adobe visto che per esempio anche nel keynote dell'iPad Pro del 2018 appunto c'era questa collaborazione massiva con Photoshop ecco questa cosa mi verrebbe quasi da promuoverla perché comunque da questo punto di vista abbiamo capito i tre step di Apple forse i quattro step di Apple quindi a chi è dedicato il Mac Mini l'iMac l'iMac Pro e il Mac Pro e poi ci sono due categorie di prodotti che sono le categorie che più mi colpiscono perché perché una è la categoria che in questi ultimi anni ho esplorato tantissimo che è ovviamente la categoria degli iPad e poi c'è questa fantomatica categoria dei prodotti portatili Apple dei Mac portatili quindi alla fine i MacBook che secondo me vanno a definire in un altro modo il concetto del Pro partiamo con l'iPad partiamo con l'iPad perché tornando indietro di tre anni quando nel 2016 Apple ha fatto una determinata scelta e quindi ha fatto fare un balzello tra iPad Air 2 e iPad Pro alla fine l'ho vista come una naturale evoluzione che poi si può riassumere tranquillamente in quello che dice Andrea nel suo messaggio quindi spendere tanti soldi io ho fatto una puntata che si chiama A Pro is the new expensive perché alla fine era quella continuando su questo su questo filone e avendo conosciuto altre due generazioni di iPad Pro con la versione 10 e mezzo affiancata alla 12 ma comunque una nuova edizione della 12 e poi a ottobre dello scorso anno la generazione tra virgolette bottomless quindi senza il tasto home tutto questo viene rimesso in discussione perché perché mi sembra che Apple voglia usare l'iPad Pro quasi come strumento primordiale per buttare su le novità di Apple perché perché oramai è pieno il web pieno YouTube di video che fanno vedere per esempio la beta di iPad OS su tutti gli iPad quindi anche sugli iPad vecchi quindi anche sugli iPad che ad esempio non hanno la porta USB-C quindi in ogni caso un'azienda fa una determinata scelta quindi la scelta di togliere casa propria quindi la connessione Lightning per adottare la porta universalmente riconosciuta come il futuro una porta che ricordiamoci Apple l'ha buttata fuori per la prima volta addirittura tre anni prima di metterla sull'iPad perché comunque Apple ha iniziato a credere nella porta USB-C nel 2015 quando ha presentato il MacBook da 12 pollici ha detto perfetto noi con quella porta lì vi facciamo fare tutto quella porta lì è arrivata nel 2015 sui nuovi MacBook è arrivata poi nel 2016 su la fascia top dei Mac quindi i MacBook Pro con il redesign e poi lo scorso anno con l'iPad Pro e si vocifera è notizia di questi giorni che questa porta poi potrebbe in un modo o nell'altro arrivare anche sui finalmente telefonini Apple quindi sugli iPhone a partire dal 2020 con che cosa con l'unica differenza che per esempio i MacBook Pro ovviamente anche gli altri Mac e credo anche i MacBook Air hanno porte lightning scusate porte USB-C barra Thunderbolt 3 mentre per il momento sia iPad che che il MacBook da 12 pollici hanno semplicemente delle porte USB-C per cui senza i Pro che dà invece la connessione Thunderbolt 3 quindi dopo tutto cosa può voler dire Pro per quanto riguarda appunto il mondo di iPad secondo me vuol dire avere accesso a delle caratteristiche esclusive tipo il Face ID che ad oggi è forse l'unica differenza tangibile con appunto rispetto agli altri iPad che non sono solo gli iPad Pro possono essere tranquillamente gli iPad gli iPad Air perfetto magari sui Pro sull'ultimo Pro ad esempio c'è la possibilità di usare l'Apple Pencil di seconda generazione non sto dicendo che è un prodotto da buttare via anzi è un prodotto che amo un prodotto che uso quotidianamente è l'unico prodotto che sento veramente riapprezzare nel panorama forse degli ultimi prodotti Apple degli scorsi anni ovviamente rispetto per esempio ad un iPhone XS ad un Apple Watch serie 4 che comunque sono soprattutto Apple Watch degli ottimi aggiornamenti magari l'iPhone XS rispetto all'iPhone X solamente magari un pochino troppo differente dal precedente comunque ci sta però adesso mi aspetto per esempio magari a marzo 2020 quando potrebbe arrivare la nuova generazione di iPod Pro perché non mi aspetto ovviamente un iPod Pro prima del prima della primavera del prossimo anno magari poi una nuova generazione di iPod Pro potrebbe tranquillamente arrivare benissimo alla WDC 2020 quindi di qui a un altro anno diciamo che ovviamente mi aspetto lo schermo OLED mi aspetto un nuovo una nuova generazione di Face ID e quindi poi lasciando scoperte diverse fasce che sono le fasce entry level e quindi avendo queste fasce qualcosa da recuperare dal modello maggiore che per esempio acquista il beneficio dello schermo potrebbero tranquillamente vedere approdare per esempio su un iPod Bini il Face ID la USB Type-C e quindi in ogni caso portare avanti un concetto che è il concetto relativo al futuro mi verrebbe quasi da definirlo un ecosistema hardware che di qui a un anno potrebbe veramente definire Apple tanto quanto negli anni abbiamo imparato a conoscerlo tramite il discorso software con 4 sistemi operativi adesso 5 anzi 4 e mezzo mi verrebbe a dire perché comunque per esempio iPadOS è tranquillamente iOS 13 perché anche l'immagine e il profilo per installarlo è praticamente identico quindi più che mai questo nome marketing e questo l'abbiamo anche detto la scorsa settimana diciamo che mi fa ben sperare verso il futuro altro discorso è quello dedicato ai portatili perché perché diciamo che è il mio nuovo pallino perché ovviamente guardo con occhi a cuoricino tutto il discorso legato a iPad guardo con estremo interesse tutto ciò che riguarda iPhone perché ad oggi resta ancora al centro però come l'anno scorso alla fine ero ossessionato per iPad che per quanto riguarda il mio cuore ripeto è al primo posto diciamo che adesso sono abbastanza lì per apprezzare un'altra fascia di mercato che è quella che in questo momento non riesco a conoscere come vorrei e che è quella del MacBook Pro vi ho raccontato nelle scorse settimane cioè comunque MacBook Pro perché diciamo che è il Mac che mi si addice di più anche per poter portare in giro e poi imparare a conoscere imparare ad avere un nuovo rapporto a conoscere di nuovo quello che è un sistema operativo che ho conosciuto per un paio d'anni perché poi appunto mi sono distaccato per approcciarmi ad iPad e ovviamente poi Apple butta fuori un iPadOS e quindi dovrà riapprociarmi nuovamente con tante cose diverse però adesso c'è questo amore che vorrebbe nascere per vorrebbe rinascere per macOS però da questo punto di vista mi piacerebbe capire veramente il significato di quelle tre lettere nel mondo dei MacBook perché perché la scorsa settimana Apple ha registrato sette nuovi Mac Mac nell'euro asian database cioè ha detto ok noi abbiamo sette Mac da presentare sette computer Mac portatili perfetto questi Mac ovviamente saranno magari dei dodicini saranno magari dei MacBook Air potrebbero tranquillamente anche essere già i nuovi MacBook Pro anche se onestamente il MacBook Pro me lo aspetto magari primavera estate del 2020 per concludere il ciclo quadriennale quindi 16 17 18 19 e qui la domanda del nome Pro veramente mi colpisce perché perché se riavvolgiamo un attimino il nastro e vediamo la differenza netta che c'è tra il MacBook Pro cioè tra il Mac Pro e per esempio un Mac Mini che alla fine sono due lati no sono due medaglie diverse questa differenza non la vedo massivamente marcata tra il mondo che è forse il mondo dei Mac per le masse tra virgolette nel 2000 2019 perché comunque il MacBook Pro ha fatto dei passi in avanti in questi due anni per esempio sul 13 siamo passati finalmente dalle CPU Dual Core alle CPU Quad Core addirittura abbiamo visto un quadruplicamento tra il 2017 e il 2019 delle CPU sul 15 pollici con tutti i casini che poi l'anno scorso per esempio sono arrivati dai dall'I9 problemi di thermal throttling di surriscaldamento che sembrerebbero almeno in qualche modo scomparsi nella generazione 2020 2019 però non vedo molta differenza perché in ogni caso Apple ha buttato fuori il MacBook Air che alla fine dà pochi vantaggi verso determinate persone che sono le persone professionali perché ad esempio mi dà solamente due porte USB-C in più due porte Thunderbolt 3 in più mi dà la touchbar lo schermo da 13 pollici è lo stesso la FaceTime camera è una 720 da una parte 720 dall'altra differenze ma se ce non ne vedo ma soprattutto non vedo forse quello che Apple potrebbe fare di qui ai prossimi anni cosa fa mi porta le stesse differenze che abbiamo analizzato prima per iPad sul modello forse più importante dei suoi computer perché per quanto mi riguarda credo che nettamente i MacBook Pro siano appunto una certa una certa una certa fette di vendita mi verrebbe da dire quindi delle macchine che nettamente sono più vendute rispetto ad altri poi magari mi sbaglio Apple non dà i riferimenti delle percentuali dei vari mondi che che butta fuori però quando Apple punta ad una certa fascia non la vedo più così combattivamente presente come era un tempo ad esempio visto che questo computer si chiama Pro metti una cosa che serve ai professionisti e qua magari faccio scendere qualche lacrimuccia faccio pestare qualche pugno sul tavolo a chi ancora oggi butta una scheda SD in un dongle che poi deve connettere la porta USB-C ad esempio o se no cosa mi fa Apple nei prossimi anni mi porta poche modifiche mi porta un design nuovo e il design nuovo è quello che vogliono i professionisti è quello che serve ai professionisti perché se Apple deve essere questa azienda perché se dico Apple mi parte Siri che non ho neanche nominato è la bellezza anche anche di Apple e ho la beta non ho la beta e ho la 12.3.1 ecco è la bellezza di Apple e ovviamente con bellezza intendo il contrario però sono veramente un pochino in dubbio su determinate scelte su determinate scelte per il 2019 perché io vedo e poi faremo una puntata dedicata magari verso la la metà di luglio o magari sarà una delle quattro puntate del mese di agosto in cui le dirette si fermeranno vedo un'uniformità di vedute nel medio lungo termine perché come magari direbbe Conte il presidente del consiglio per me il 2019 sarà un anno pieno di entusiasmo però io cambio il 2019 con il 2020 e vedo veramente tanto entusiasmo mi verrebbe quasi da volermi proiettare all'inizio del prossimo anno per andare ad analizzare quello che è un percorso che secondo me ha lasciato un segno in questa WWDC e che nei prossimi nei prossimi mesi nei prossimi anni dovrà necessariamente arrivare ad un ad un compimento ad un uniformità chiamiamolo così anche a livello hardware e quindi Apple cosa dovrebbe fare secondo me dovrebbe prendere ad esempio veramente un prodotto che ha fatto tacere parecchie persone che è appunto il MacBook Pro che ha significativamente trovato una buona definizione a tre lettere e che deve spalmare questo concetto su tutta la gamma anche con prezzi folli perché appunto parliamo di un di un computer che nasce con 256 giga di ssd e viene buttato fuori ad un prezzo folle di 4.000 dollari però questo prodotto ha necessariamente fatto capire qual è la direzione di Apple una direzione che aveva perso perché quando nel 2013 Apple ha presentato sempre la wwc il cestino della spazzatura i malumori i malcontenti erano davvero tantissimi conosco persone che hanno un MacBook un Mac Pro della precedente generazione e che tranquillamente non usano perché non è un prodotto da Apple lo stesso che è in ASTAT ha un MacBook Pro potenziato al massimo e usa quel dispositivo per avere semplicemente un management del cioè un appunto un sistema di management come si può definire in italiano non mi viene neanche da dire comunque un sistema di archiviazione dei propri file efficace e questo non era da Apple del 2013 però Apple da questo punto di vista ha saputo dare un colpo di reni ha portato ad una macchina nuova ad una macchina efficace ad una macchina da Apple da Apple di Steve Jobs e lungi da me dire quando c'era Steve Jobs però quando ha presentato questa macchina ho detto bon questa è Apple e questa Apple vorrei che ritornasse anche a definire altri altri chiamiamoli mondi perché comunque il mondo di iPad Pro è un mondo che è sempre più in espansione iPad OS è un mercato che secondo me potrà tranquillamente prendere piede però alla fine mi è venuto anche il dubbio vorrei vedere tante recensioni di iPad Pro con iPad OS e quindi il stila computer magari stila un iPad diventasse magari un bicama computer qualcosa del genere quindi una nuova presa di posizione però d'altro canto le stesse caratteristiche ce le ritroviamo in altri ambiti e quindi non non è non è considerabile una macchina Pro cioè se nel 2018 avessi preso il mio iPad Pro con questo iPad OS e magari aver avuto la possibilità di usare questo drag and drop aver avuto la possibilità di usare i dischi tranquillamente con l'USB-C solamente legati ad un iPad Pro secondo me questa macchina avrebbe avuto tanta tanta differenza e quindi mi verrà voglia magari di continuare a ricercare il significato tra lettere perché è un significato che va preso in considerazione va tenuto in osservazione e soprattutto va capita questa demarcazione che tranquillamente in questo momento si assottiglia per altri ambiti e praticamente prende altre strade per altri detto questo ringrazio Andrea ringrazio Michele ringrazio chi c'è è stato in chat chi ovviamente ha ascoltato la puntata in diretta vi ricordo che potete seguirmi sui miei social lo dico poco ma comunque lo dico di cui trovate ovviamente tutti i link nelle note dell'episodio trovate i link per magari lasciare una recensione su iTunes le altre le altre podcast lo dicono ogni puntata io lo dico ogni tanto perché perché mi scordo e niente l'appuntamento è rinnovato tra sette giorni quindi il prossimo mercoledì sempre il 17 sempre con iotech e finiamo il mese parlando ancora di WWDC perché poi da luglio ragazzi ci si proietta verso il futuro nuovi iphone a settembre veramente 2020 poi anno esplosivo per cui state connessi perché veramente secondo me ne vivremo assieme delle belle poi ragazzi 2020 praticamente tra sei mesi quinto compleanno di iotech e quindi poi qualche sorpresina sta arrivare